Ilari Blasi, colpo durissimo per la Showgirl, appello disperato ai fan, aiutatemi. Sfortuna di fine estate per Ilari Blasi. Un imprevisto di cui la conduttrice, già turbata dall'addio a Francesco Totti, non aveva bisogno. La Showgirl ha lanciato un appello su Instagram ai suoi followers perché Alfio, il suo amato gatto SPHYNX, si è smarrito a Sabaudia. Con l'aiuto dei fans, riuscirà a ritrovarlo? Proprio nel momento in cui si avvicinava il momento di incontrare gli avvocati e avviare le procedure legali per il divorzio, la Blasi si stava godendo gli ultimi giorni di agosto a mollo nel mare cristallino della Croazia. In sua compagnia, la sorella Silvia con marito e figlia al seguito e la piccola Isabel, figlia minore di Ilari e Francesco Totti. Secondo indiscrezioni, la conduttrice avrebbe deciso di portare con sé la bambina in corso d'opera, dopo aver scoperto che l'ex marito, che si trova a Sabaudia, l'avrebbe portata a giocare a San Felice Circeo, con i figli della nuova compagna Noemi Bocchi. Si tratta, ovviamente, solo di voci che non sono mai state confermate. Al contrario, l'appello social condiviso dall'ex letterina di passaparola è del tutto reale. Senza selfie ammiccanti o bichini da urlo. L'ultima IG story di Ilari Blasi è un'accorata richiesta di aiuto. Alfio, il gatto SPHYNX della Showgirl, è scomparso. La scomparsa è stata segnalata da Ilari sul suo profilo Instagram, con una storia in cui chiede aiuto per ritrovarlo e aggiunge anche un numero di telefono da chiamare per le segnalazioni, 0229060733. Il contatto è quello dell'Agenzia Notoria, che da tempo cura la comunicazione e la gestione della sua immagine. Ilari Blasi ha due gatti, entrambi di razza Canadian SPHYNX, caratterizzati dall'assenza di pelo, Alfio, il gatto scomparso, e donna Paola. Era il 14 maggio 2021 quando la famiglia Totti ha dato il benvenuto al secondo gatto e lo ha presentato sui social media con una foto che ne evidenziava il pelo nudo e i penetranti occhi alieni. Più volte sia Ilari che Totti sono stati protagonisti di divertenti gag in casa che hanno visto i due gatti al centro. Un'occasione in particolare è finita su tutti i giornali, ovvero quando la Blasi ha fatto uno scherzo al marito, dicendogli che in casa sua c'era una donna incinta di lei. Ma si trattava di donna Paola e il video dello spavento dell'ex capitano fini ovunque. In questi ultimi travagliati mesi, la conduttrice ha spesso portato con sé i suoi animali domestici, condividendo alcuni momenti divertenti con amici e collaboratori nelle IG Stories. A diverse ore dall'allarme lanciato, Ilari Blasi annuncia che il suo gatto Alfio, smarrito questa mattina a Sabaudia, è stato ritrovato. L'annuncio con una storia di Instagram Grazie per aver guardato questo video, per cortesia mettete il mi piace e condividete questo video. Potete anche iscrivervi al nostro canale YouTube. Cliccate sul pulsante di notifica per sapere quando carichiamo un nuovo video. Grazie mille!